A Bino Parolin, quinta prova del campionato nazionale Academy Champion Kart Series sul circuito internazionale di Siena, una delle piste più amate a livello internazionale e numeri per quello che riguarda i giovani in crescita. Sì, diciamo che anche in questa tappa qui la categoria giovanile, quella dei rocchi e anche la pre-agonistica è in crescita diciamo abbastanza importante, questo qui fa molto piacere. Giovani che trovano in questi kart il modo per mettersi a confronto, ricordiamo mezzi uguali per tutti e soprattutto nelle categorie più giovani anche il fatto che il motore si sorteggia, quindi questo è un elemento in più per capire chi ha il manico tradotto e chi invece no. Sì, diciamo che questo format noi lo stiamo già sviluppando da 4-5 anni nel Mondiale Academy, l'abbiamo portato all'interno del nostro monomarca sulla categoria giovanile appunto per riuscire a mettere in luce quei piloti che veramente hanno delle qualità valide. e allo stesso tempo dare la possibilità anche a quelli che magari sono leggermente inferiori come prestazione di guida, dandogli la sicurezza che bene o male il mezzo è lo stesso, anche perché durante la gara poi il motore viene cambiato, è invertito fra il primo e l'ultimo pilota oppure il secondo e il quinto, dipende appunto dalla lotteria che fa il commissario tecnico. Albino, visto che conosci molto bene questi mezzi, qual è il punto di forza dei telaie e dei mezzi Parolin? Il punto di forza che noi portiamo avanti già da anni è la qualità nella costruzione dei mezzi e dei componenti, queste cose qui garantiscono sicuramente un'ottima affidabilità sia in termini di utilizzo sia in termini di prestazione, dando allo stesso tempo ai piloti la possibilità di interagire con il loro meccanico nel setup e cercare di migliorare assieme a lui la propria guida. Siamo alla quinta prova sul circuito internazionale di Siena, poi a settembre le due prove che chiuderanno la stagione del campionato nazionale con l'assegnazione dei titoli, poi il titolo iridato da assegnare ma si guarda già avanti al prossimo anno. Sì, diciamo che quest'anno è stato anche un anno di prova per una nuova forma che noi abbiamo messo in piedi con l'Academy Promotion. Adesso starà noi e l'Academy cercare di mettere assieme tutte le pedine positive e lasciare stare quelle negative per migliorare ancora per il prossimo futuro. Grazie.